Un Natale da capitale, un Natale che anticipa la capitale italiana della cultura il 2024 e quindi abbiamo pensato a un grandissimo Natale. Un Natale che si accenderà il 26 di novembre in Piazza del Popolo a Pesaro con la consueta accensione dell'albero di Natale che quest'anno porterà un messaggio di pace, un messaggio di pace a tutto il mondo, un momento abbastanza toccante dove come ogni anno parteciperanno migliaia di cittadini. Dopo questo 26 di novembre si accenderanno 40 giorni di iniziative, più di 100 iniziative in 40 giorni e dislocate in tutto il centro storico. Abbiamo spostato quest'anno la consueta pista di pattinaggio del ghiaccio da Piazza del Popolo a Piazzale Matteotti questo per dare la possibilità anche ad altre parti del centro di vivere e di allungare la passeggiata. In più abbiamo confermato il trenino di Natale che porta i bambini in giro in tutta la città e oltre a questo, come dicevo prima, più di 100 appuntamenti in 40 giorni sul grande palco che installeremo qui in Piazza del Popolo un palco veramente, veramente bello quest'anno perché sarà il palco che poi rimarrà per la capitale della cultura e tanti spettacoli itineranti. Porteremo il Natale nelle vie, nei vicoli del centro storico con artisti di strada, con momenti comunque sia di musica portati dalle scuole di musica della città dalle scuole di danza per quanto riguarda il ballo e anche dalle scuole elementari che verranno a regalarci i canti sotto l'albero di Natale. Quest'anno abbiamo coinvolto le attività commerciali e soprattutto anche i centri commerciali naturali quindi faranno delle attrattive nei luoghi dove loro vendono, presso le loro attività e anche nelle vie e anche per dire anche in Piazzale Lazzarini troverete delle attrattive per le persone che si recano in centro. Questo è un grande coinvolgimento delle attività commerciali ma anche l'aiuto avuto dalle associazioni di categorie che si sono spese e hanno comunicato le varie attività commerciali del territorio, del centro storico, di mettersi in gioco appunto anche per il Natale. Quindi questo coinvolgimento mi fa molto piacere, sarà sicuramente un Natale più coinvolgente e di partecipazione. In generale è una grandissima opportunità per come è concepito un programma molto ricco a favore anche del commercio, delle attività in un momento ovviamente strategico da questo punto di vista ma soprattutto insomma un vero e proprio biglietto da visita che vogliamo riservare ai pesaresi innanzitutto ai cittadini della provincia, della regione che inizieranno a visitare Pesaro anche verso la capitale italiana e appunto anche verso chi chiaramente con un focus specifico sul Capodanno che sarà un po' una prova generale di quella che poi sarà la cerimonia inaugurale del 20 gennaio con Mattarella, verranno ovviamente a vivere il clima di una città che si prepara ad essere capitale italiana per tutto il 2024. Grazie